Brindisi è il titolo del convegno organizzato da Italia Nostra e UNESCO è una grande occasione per fare il punto della situazione e per vedere appunto questi patrimoni del territorio brindisino tra tutela e valorizzazione Sì, con il club UNESCO e Italia Nostra, sessione di Brindisi abbiamo organizzato questa sera questa conferenza appunto sul tema delle zone uomine perché intendiamo appunto sensibilizzare tutti i cittadini sui temi e i valori della salvaguardia del territorio che è una cosa fondamentale nella nostra società questa sera avremo qui presenti dei relatori molto qualificati specialisti del settore Gianfranco Ciola che è un agronomo Paola Vina Dastore biologa e Degno Santoro forestale che parleranno proprio delle zone umide costiere della nostra provincia questo sempre nel contesto di valorizzare la conoscenza del nostro territorio in quanto stesso poi sensibilizzare i cittadini alla salvaguardia alla conservazione in questi temi Ecco, abbiamo ad esempio il dottore Goceto che è un esempio di come questo è un patrimonio anche trascurato per certi versi ma anche valutizzato grazie all'impegno delle decisioni volontarie è un segnale che si vuole dare anche alle amministrazioni locali affinché abbiano sempre sotto mano la situazione e non trascurino questi patrimoni Certo, noi ci rivolgiamo ai cittadini ma ci rivolgiamo anche, chiediamo appunto alle amministrazioni di essere presenti, attive e di tenere bene a cuore la situazione delle aree protette della nostra provincia il dottore Goceto è un esempio di aria protetta conosciuta in tutta Italia che deve essere ulteriormente valorizzato e ancora maggiormente tutelato